Sì, sì, sì. Sono alla parola di casa. Come si chiamano questi linguaggi? Adesso si chiamano dirigenti scolastici, la dirigente scolastici, però io ho messo un po' di tre parole per capire la differenza tra dirigente scolastico e ex scolastico, sì, è più bello, è più vicino, più scegliere, abbiamo sempre le parole. Questo è un totimo che lo usiamo tantissimo anche nella vita quotidiana. E per distinguerla poi da quell'altra, perché c'è sempre l'inizio di società, dirigente, che poi prende sempre il provvedimento. Bravo! Dunque, lei si chiama invece di Giappaolo e l'ex provveditore di Giappaolo e l'ex provveditore di Giappaolo. Perché non ci andiamo dentro che fa un po' di precedenti? No, ci possiamo salutare. E stavamo dicendo che io per distinguerli sono due e due, con questi nomi le po' antiche adesso, con questo, con questo, con questo, con questo, con questo, con questo. Con questo, 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 con questo Grazie. Buongiorno, sono il rettore dell'Università di Termo, nella sua università, 67, 70 anni, ancora all'interno di annunzio? Sì, 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 qui, giù, 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 sì. Come si chiamava la strada? Allora, allora nemmeno gli avvicini, forse era la prima strada. La prima, sì, ha capito? Quella scuola era una scuola, una scuola elementare. Ma quindi come libero docente? Sì, come libero docente incaricato. Io poi avevo... 63, 65, 65, si poi ufficialmente pensi... C'era il professor Lavagna che stava... Sì. E lui, insomma, che è un... Maestria, Roma, no? Certo, certo. Mi disse, ma perché non puoi a terra? Io, non puoi a terra. Andrò a terra, eh certo. E poi, sì, era la prima università. Adesso porto i saluti anche di Cucco d'Oro e di Sicla lì, perché insomma... Maestria, due istituzioni. Bene. Bene. Mi presenta il sindaco. Il sindaco. Il sindaco, il sindaco e l'allievo del professor Sigla, il suo nipotino universitario. Vedi, io ormai scopro i diputi, i prodivuti... Figli di... E' un onore averlo a Teramo, ma di averlo a Teramo, perché Teramo... Professore, perfetto, Graziella Patrizzi, dato tanto piacere, veramente onorato di conoscerla. Sono contento perché trovo anche delle persone che legate ad altre persone che conosco molto bene. E' stato sempre presente a Teramo, direttamente e indirettamente. C'era Alessandro Echioti, vicepresidente della provincia, perché tutti conoscono. Non mi ricorderò tutti, scusatemi. Buongiorno, vice sindaco di Teramo e mio marito è stato invece un suo allievo alla Sapienza, nell'anno 1993. A giurisprudenza o a certo punto? A giurisprudenza. Perché io sono stato prima a scelto un po' di dirlo, ho un certo numero di anni e poi... Preso un 25-24. Probabilmente non l'ho fatto prezzate nemmeno io. Non ricordo, però è un altro esame. Molto piacere, professor Rabbuffo, vicepresidente della scuola. Molto piacere, direttore all'istitutivo della scuola. Piacere di tutti. Scusate che mi sposto. Sono tanti, sono tanti. Continuiamo, professore. sono il questore il rito di simone tanto piace questo ma tutti la sua presenza è importantissima l'ho scelta proprio perché mi ricordo che era Cristo in cui ero molti di noi sono anche se studenti tra l'avanti dai giurisprudenti hai visto quanti ricordi? ricordi anche della città appena entrato ma poi io ci sono stato però anche altre volte in qualche commissione quando l'università ormai non era più ah via Prudente ecco era l'università la prima sede era via Prudente certo che quella strada sì 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 in basso ma qui che era una scuola elementare che serviva la facoltà e per arrivare da Roma il passo delle capanelle le capanelle, l'ortolano qualche volta sono dovuto tornare indietro perché la neve e la carota che poi a me piacevano stare tutto da me quindi però poi non ero tanto bravo ma allora certe volte mi sono insabbiato in acquistato nella neve di tutto ho pensato sicuramente facevo scalo a liti dove poi ho conosciuto quella e è stata poi mia moglie e fu un'occasione proprio la Golombi perché mi fermavo a Riedi scusate era la figlia del tetto dello Zuccheri finisce che sei la Golombi ma era Toscana insomma comunque però in quel momento il padre che stava dirigevano così comunque il viaggio a Teramo le portò con ieri qualche giorno fa abbiamo festeggiato i 50 anni di presenza all'Università del Teramo dalla professoressa Esposito che ha fatto una lezione magistrale ricordandola proprio tra i docenti la professoressa Esposito è la figlia di Carlo Esposito che è stato uno dei miei maestri c'erano due costituzionalisti che proprio era il mio maestro maestro diretto ma io poi sono molto legato al campo cioè sono l'altro mio maestro se volete possiamo cominciare a prendere un po' qualcosa di sancaffè un caffè un caffè un maglietto prego una voce riva ah certo prego per incontrare gli studenti ecco quanto è attuale il messaggio della gatta grazie 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 che stiamo a Roma e io la credo. Sei già un sciacquo orte, sei pronti alla morte, sei pronti alla morte, l'Italia di amore. Sei già un sciacquo orte, sei pronti alla morte, sei pronti alla morte, l'Italia di amore. Sì! Segue la proiezione di tre video, la morte costituzionale, realizzato a cura di Rai Scuola, Dignità, che è parte del programma Le parole della Costituzione, realizzato da Rai Cultura in collaborazione con la morte costituzionale. Intervista all'Onorevole Angela Donnella, vincitore del concorso Le Madri della Costituzione, promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Scerca e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'alto patrocinio della Corte Costituzionale e delle Associazioni Femmini. Nel primo gennaio del 1940, quando la nostra adionata Repubblica riceve un dono più prezioso, un dono pensato proprio per tutelarne la crescita e lo sviluppo democratico. Il primo gennaio del 1940, mentre in vigore la Corte Costituzionale. La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti la scena. Perché si è nuova? Bisogna ogni giorno di metterci dentro il concorso civile. Dentro ogni articolo di questa Costituzione, oi giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti, combattenti, fucilati, piccati, torturati, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritta a tutte le strane. Questo è un testamento di centomila morti. Se voi volete andare in Pettere d'Agrino, nel luogo dove è nata la Costituzione, andate nelle montagne dove il cazzo è al cartigiano, nelle carceri dove furono i prigionati, nei campi dove furono i piccani, dovunque è morto un italiano per ricattare la libertà e la dignità andate a Dio giovani col pensiero perché vita è nata la nostra patenia. La Costituzione, come ogni cosa ha di grande valore, ha richiesto da subito una speciale tutela, una garanzia scolpulosa, saggia e ponderata. Ecco perché, assieme ai quattro organi della Repubblica, viene istituita una corte di giudici speciali, uomini di legge e di grande esperienza, a cui assegnare il delicato compito di garantire i principi della Costituzione italiana. è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a ricordarci l'importanza dell'istituzione e la sua stretta dignità con il Pirinari. la corte come noto ha la prima competenza più famosa quella di accertare che le leggi siano conformi ai principi della nostra Costituzione. Questi principi sono in realtà, rappresentano il patto che lega l'italiano e il nuovo Stato. Il patto così come è stato definito è sancito nella Costituzione. Quindi garantire il rispetto di questo patto è fondamentale per la nostra Costituzione. La corte costituzionale nasce per raccontare una questione antica i poteri legislativo e judiziale sono notoriamente separati ma chi ha il compito di giudicare le leggi che escono dal Parlamento e vengono applicate dalle corti e dai tribunali? Qualcuno accosta le funzioni della corte costituzionale a quelle delle presidenti della politica e questo accostamento ha un certo fondamento una delle diversità delle funzioni le due opere entrambi sono delle grazie la corte costituzionale è un garante di garante di garante giuridico tecnico giuridico con le mani del presidente della repubblica testimoni il presidente del senato e il presidente della camera dei deputati giuro sul mio onore di osservare realmente la costituzione e le altre leggi dello stato esercitando le mie funzioni di giudice della corte costituzionale nell'interesse supremo della nazione il 23 aprile del 1956 la corte costituzionale si riunisce nella prima udienza alla presenza del presidente della repubblica Giovanni Crocco è quello che possiamo considerare l'atto fondativo dell'istituzione così come la prima storica sentenza emissa dal collegio dei giudici è datata a 5 giugno 1956 come riportando nella costituzione le funzioni specifiche della corte sono regolate dagli articoli 134 135 136 e 137 il giudice costituzionale non è sottoposto al sindacato di qualsiasi ola nuovo potere esterno alla corte gode della stessa immunità ai membri del parlamento tutti i provvedimenti adottati dalla corte nei confronti dei suoi componenti devono essere motivati e resi pubblici nell'atto che assume l'alta carica il giudice costituzionale deve rinunciare a qualsiasi mandato o professione non può essere membro del parlamento sospende l'insegnamento non partecipa ad associazioni o partiti politici smessa la troca i giudici si raccolgono intorno al grande tavolo il pubblico non può entrare nella camera di consiglio noi non possiamo assistere l'avvento i giudici dovranno deliberare l'area austera dei giudici e della stessa corte non deve far perdere in vista l'obiettivo primario il principio intervesso che guida il lavoro quotidiano il rispetto dei principi della costituzione la corte costituzionale ha la sua sede del palazzo della consulta questo edificio fu eretto nel settecento la papa che vende dodicesimo per il tribunale ecclesiastico della sacra consulta dopo il 1870 fu la sede del ministero delle caratteristiche e poi del ministero dell'arca italiana l'edificio della consulta affianca il palazzo del Quirinale la sede della più alta carica dello Stato e proprio come il presidente tutela e garantisce dall'anno del Cod i cittadini la politica e le istituzioni legislative sono ancora le parole del presidente Mattarella a ricordare l'attualità e il prezioso valore della carta dei padri costituenti la nostra costruzione del 48 ma i nostri costituenti con grande sagaccia ne hanno scritto le norme in maniera che potessero esprimere principi e valori vari anche per situazioni allora imprevedibili e ne sono tante basta pensare a come è cambiata dal 48 ad oggi la modalità della vita quotidiana basta pensare proprio di diritti a una quantità di condizioni differenti e allora imprevedibili ci sono stati decenni in particolare in cui le grandi riforme civili hanno avuto dalla corte un impulso fondamentale il matrimonio il divorzio ma anche la legislazione sulla bordo sono stati presi in esame dai giudici della consulta e non solo dai grandi dibattiti in parlamento i grandi temi che hanno inciso profondamente nella vita sociale hanno lasciato spazio e talvolta a questioni più distanti dall'edite ma pur sempre incisive nella vita quotidiana ogni tema che regola la vita dei cittadini diventa materia di analisi della corte l'intenso lavoro della corte è sostenuto dalle alte competenze di unimento per i giudici trasformare un principio astratto in applicazione nella vita di ogni giorno è la più grande soddisfazione i nomi della costituzione sono state scritte con una potenza che rende i suoi principi capaci di affrontare e far nascere le cose adatte anche a queste nuove condizioni e con la costa costituzionale e il costo del tempo ha verificato se le nuove regole poste dal Parlamento con le leggi per queste nuove condizioni a loro imprevedibili fossero conformi alla Costituzione quindi sono state responsabilità nuove nella corte costituzionale valutare se condizioni così imprevedibili e differenti come le regole adotto sono state regolate per una conformità per i principi che rimangono sempre validi a differenza della costituzione tedesca che parla di intangibilità della dignità umana io ho scelto questo tema perché noi da diverse disposizioni costituzionali possiamo ricavare lo stesso concetto simile di visualabilità della persona ecco i riferimenti testuali della Costituzione alla dignità ci sono diversi io ne cito qualcuno l'articolo 3 afferma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale il 36 dice che la distribuzione deve essere sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa l'articolo 41 dice che l'iniziativa economica privata non può regare danno alla dignità umana ancora il 48 dice che nei casi di indignità e nei casi della legge il diritto di voto può essere limitato nei casi di indignità insomma diversi modi di riferenza alla dignità dell'uomo e tutti legati all'azione dei pubblici poteri e dei privati degli altri cittadini la dignità è riconosciuta come valore correlato necessariamente alla persona o alla personalità ciò che poi è testimoniato dal più veloce altre disposizioni costituzionali non è il tempo qui di poter ripercorrere dignità e personalità non possono andare disgiunte devono andare di pari basso sono parole di caldo che diceva l'uomo non può essere trattato da nessuno veramente come un pezzo ma deve sempre essere trattata nello stesso tempo come un fine e proprio in ciò consiste la sua dignità e quindi la centralità anche della nostra costituzione della persona nella costituzione principale superiore dell'ordinamento repubblicano torna al quale ruota tutta la costituzione specialmente la prima parte della nostra Buongiorno a voi, potremmo stare l'onorevole Anto Rampino e la Lampoletaria, che è qui con voi, e ci racconterà la storia della sua vita. Allora, iniziamo. Lei è stato un'altra di grande cultura, che ha diventato il centro classico nella città di Torino, che non la fa in Panacale, e successivamente poi la città a portare a vedere e a scendere. Per non rivolgere a questa storia di passione per la medicina, ha superato il primo anno di corso per infermere frontali della filosofia in questa italiana. Cosa ha il mondo di quegli anni? Allora, come sono lei, è per me un piacere essere qui. Un avvenimento molto importante e anche doloroso per me è rappresentato dalla perdita di mio padre, che risale a quando ero ancora una bambina. Per questo avevo molto mia madre, che con la sua forza è riuscita a educare e a crescere me e mia sorella plurale. Per quanto riguarda la mia passione per la medicina, mi è stata trasmessa dai miei nonni, e per questo motivo mi sono dedicata all'assistenza dei malati. La guerra finita, come significa per i suoi nemici, del riconoscimento di partigiani combattenti e poi della progetti di quella? Come è venuto con la risistenza? Allora, durante la mia prima insambra, per lavorare nell'ospedale di Conlocato, sono entrata in contatto con gruppi di partigiani madugnati, ed è quindi con loro iniziata la mia partecipazione alla risistenza. La solitanza nella risistenza neanche dato modo poi di incontrare il suo marito. Ci può raccontare come si è in questo suo grande amore? Certo, dopo la liberazione ho iniziato a raccontare la liberazione del partito con l'està di Sabona, dove ho avuto modo di conoscere colui che poi è diventato mio marito. Pochi mesi dopo il nostro incontro abbiamo deciso di sposarci, nonostante non avessimo il consenso di mia madre, purtroppo, in quanto le teneva Piero, non consono a livello sociale della vostra famiglia. Nonostante questi problemi ci siamo comunque sposati con un diritto civile la mezzogliere di Natale nel 1945. Dopo circa 5 anni di matrimonio è nata la nostra unica figlia Laura. Adesso parliamo anche un attimo del suo percorso politico. Vogliamo chiedermi un po' di affabella, se vogliamo anche maschilista. Cosa ha scritto? Inizia la mia maniera politica, come la scuola? Beh, la mia esigenza politica, e di un tre donne populiste anche, è stata quella di entrare nella vita nazionale, ma soprattutto in ogni campo di attività. Non si tratta però di affermare la nostra personalità in contrapposizione a quella maschile, facendo quindi il solito femminismo, ma aspiriamo alla possibilità di espandere tutte le nostre forze, le nostre energie e soprattutto la nostra volontà nella ricostruzione democratica del nostro Paese, in quanto, secondo il mio parere, non può esserci progresso senza una piena rivoluzione femminile. Inoltre, per me è un bellissimo onore ricevere questo appellativo. Mi sono sempre battuta a favore dell'anticipazione femminile all'interno della società. Nel 1948 sono stata eletta dalla Camera dei Deputati, nella circoscrizione di Genova, con circa 73 mila voti. E' stato per me questo un grandissimo successo personale, nonostante il mio partito abbia subito purtroppo una forte sconfitta. Sono stata poi impegnata nei lavori di organizzazione di tutto il mondo, ma soprattutto nel blocco orientale comunista, dove svolgevo un ruolo di coordinamento tra i movimenti femminili e pacifisti. Inoltre nel mio percorso mi sono dedicata a tematiche molto importanti che ho sempre portato avanti, come la maternità, l'infanzia, la disoccupazione, l'istruzione e la sicurezza sul lavoro, che deve assolutamente essere per l'uomo e non contro. Mi sono inoltre dedicata a temi quali l'aborto e il divorzio, i quali referendum del 74 e del 78 sono stati per me importanti obiettivi da raggiungere. Perfetto, adesso devo chiedere un'ultima cosa. Cosa direi per quanto alle donne, che oggi con molto coraggio si calderanno il parlamento, un ambiente così importante, ove però l'istruzione di genere è tuttora presente? Allora, risponderei facendo mie le parole di una mia compagna, Teresa Mattei, la quale sosteneva in un suo intervento in assemblea, che assolutamente non vi può essere un solo passo sulla via della democrazia, che non voglia essere solo formale, ma anche sostanziale, che non vi può essere un solo passo sulla via del processo, questo sia civile che sociale, che non possa e non debba essere compiuto dalla donna insieme al uomo. Se si voglia veramente che la conquista affermata dalla carta costituzionale diventa innanzitutto stabile realtà per la vita e poi per il migliore avvenire l'Italia. Va bene, noi la ringraziamo moltissimo per averci ritrovato un po' nel suo tempo, è stato un onore conoscere una madre costituente come lei, che ha contribuito poi a scrivere la storia anche e soprattutto del vostro paese. Grazie a lei, è stato proprio un piacere. Prendi la parola la studentessa Enneca Castelli, Rastelli e di scena occorrenti come il Chiorre Nalfico di Terra. Buongiorno a tutti. Allora, nel 2018 abbiamo partecipato io e un compagno a questo concorso le madri della Costituzione, in letto dal Biur con l'atto quadrocinio della Corte Costituzionale e abbiamo deciso di produrre appunto un video, inventando un'intervista, sulla base della vita dell'onorevole Antonio Ravinella e abbiamo deciso di analizzarla, sì come politica, ma soprattutto come donna, come figlia, come moglie. Per noi è stato un onore vincere questo concorso e siamo riusciti a partecipare, a passare la tornata del 8 marzo al Carinale e infatti abbiamo arrivato qui. Grazie. Prendi la parola la dirigente scolastica professoressa Adelana di Giampau. Andiamo qui con noi, con noi, che è il professore Alvaro Modugno, che io chiamo professore. Chiamo professore perché il giudice Franco Modugno ha iniziato la propria carriera universitaria proprio a Teramo e era professore nel 1967, ha insegnato diritto costituzionale nella facoltà di giurisprudenza di Teramo. Poi naturalmente non ha insegnato in università prestigiosa, in Macerata, a Teramo, Roma, la Sapienza, la LUIS, Roma 3. Ma quando è giudice della Corte Costituzionale, il 21 dicembre del 2015, non ha voluto lasciare un'attività di docente perché il ruolo di giudice non è compatibile con altre attività. Noi siamo veramente contentissimi e applaudiamo al progetto Viaggio in Italia perché la Corte Costituzionale esce dal palazzo e incontra il paese reale, soprattutto incontra i ragazzi, incontra i giovani e li incontra in una scuola perché la scuola è il luogo deputato alla formazione delle nuove generazioni che sono la promessa di un futuro migliore. Questo è un momento molto difficile per le nuove generazioni, un momento di cambiamento, un momento complesso, una società complessa, un mondo fluttuante e una società liquida come la definita Bauer e quindi i ragazzi fronteggiano quella che è la fragilità dei punti di riferimento, la criticità delle situazioni, la precarietà e quindi è importante che le istituzioni li incontrino proprio per rafforzare la fiducia nello Stato. Quando abbiamo visto, professore, i due palazzi, il cui rimane il palazzo della consulta, l'uno prospicente all'altro, ho avuto l'impressione che siano delle braccia protettive, proprio uno di fronte all'altro. è come se fossero le albi della nostra società e questo è veramente importante e mi piace molto, devo dire, l'argomento da lei scelto, la dignità, perché è una parola fondamentale che ha accompagnato la società nella sua evoluzione, diciamo, dal mondo classico in cui la dignità era uno strumento di conquista per Cicerone, per Seneca, poi con Severino Poezio c'è l'interiorizzazione di questo concetto anche attraverso San Paolo e attraverso gli intellettuali per arrivare a canti. Però la dignità per noi, soprattutto nella nostra Costituzione, ha un valore sociale fondamentalmente, perché è proprio, sì, è un valore sociale perché si realizza attraverso il lavoro, quindi la concreta collocazione dell'uomo proprio nei rapporti commerciali e sociali. Io direi che la dignità è un puntuno ovviamente con l'uguaglianza che significa non discriminazione ed è un puntuno con la libertà perché la dignità è l'espressione della nostra libertà e la libertà è partecipazione soprattutto e quindi essere liberi che significa? Significa essere liberi dall'irrazionalismo, dall'ignoranza, dal concetto dogmatico di autorità significa pensare in maniera autonoma, critica e consapevole. Quindi questo è il concetto di humanitas che torna, il concetto di humanitas cicerognano come filantropia, cioè come disponibilità verso l'altro, quindi rispetto di sé ma soprattutto rispetto dell'altro, quindi di humanitas come codice di comportamento e questo è fondamentale, va bene? Quindi io penso, no, no, non ho fatto la lezione, concludo soltanto io sono iniziata di greco di latino, quindi sono ecco perché insisto, e dico che termino così UBI UBI Società Sibili IUS grazie professore dell'intervento adesso del nostro dirigente tecnico la dottoressa Donnelli Cristina Tenicombe prego grazie Buongiorno Buongiorno a tutti io sono qui in una duplice aeste e in rappresentanza del nostro direttore generale dottoressa Antonio Latozza che porge i suoi saluti e benvenuto al giudice Modugno per averci onorato della sua presenza e per aver appunto ancora una volta sarebbe la terza volta che la corte costituzionale viene nella nostra regione ad incontrare ragazzi e nella di rappresentante dell'ufficio scolastico provinciale di cui sono dirigente alle altre due volte a Pescara al liceo classico e al liceo classico Cotugno dell'Aquila liceo classico Cotugno si a terra quella prima sì e quindi ecco noi siamo ci sentiamo appunto onorati di questa presenza perché rientra in un programma assolutamente inedito che è quello di portare le istituzioni in mezzo al po' e in particolare io non so usare il no forse lo metto troppo in città allora dunque dicevo che appunto è un'iniziativa in etica questa quella di portare le istituzioni in mezzo e in particolare proprio la proviamo con questo sì forse va meglio allora dicevo che è importante che la decostituzione venga in mezzo a noi perché così possiamo percepire capire tangibilmente che si tratta di un organismo vivo un organismo utente un organismo operante che si preoccupa di tutelare la nostra democrazia altrimenti sarebbe lontano dalla nostra realtà quindi per i ragazzi sarebbe qualcosa di avulso sì lo studiano sanno che c'è ma effettivamente non si concretizza per loro un'esperienza significativa questo lo dobbiamo tanto un'iniziativa appunto della ministra fedeli che vedevamo prima nel filmato che appunto ha sottoscritto un'intesa con il presidente della corte costituzionale proprio per promuovere queste iniziative sul territorio con l'attuale o anche già con il precedente con il grosso come si chiama il presidente con si con il giudice con Paolo Grossi sì è stato stipulato questo accordo e quindi da allora insomma ci sono stati diversi momenti di incontro su tutto il paese e volevo senza dilucarmi troppo perché praticamente poi lasceremo la parola al giudice proprio per cogliere fondamentalmente questa sua presenza e quindi trarre il massimo beneficio dai suoi insegnamenti da quello che è vicino e volevo soltanto appunto sottolineare l'importanza dell'educazione e la legalità oggi di un'educazione e la legalità che è il fondamento di una cittadinanza attiva di una cittadinanza consapevole esercitata appunto in maniera consapevole e oggi più che mai c'è questo bisogno ma intanto un'educazione e la legalità intanto ha un senso in quanto si fonda sulla conoscenza della Costituzione che è la carta fondamentale della nostra democrazia e ecco quindi che noi dal prossimo anno appunto secondo le nostre politiche nazionali le scelte del Ministero avremo una nuova disciplina di studio nuova creativamente cioè è proprio considerata come disciplina sestante che è cittadinanza e Costituzione e quindi si partirà in questo dal prossimo anno la Costituzione prima mentre vedevo il video mi sono un po' commossa però insomma mi ha fatto un po' un effetto cioè questa Costituzione è scritta tanti anni fa oggi a voi ragazzi sembra tanto lontana nel tempo ma è ancora tanto tanto attuale e in particolare pensavo per esempio senza poi ovviamente scendere in particolare ci scenderà il professore pensavo all'articolo 34 che è quello che ci interessa e ci riguarda direttamente quello che riguarda la scuola dove appunto si dice che la scuola è aperta a tutti che l'istruzione inferiore è assicurata per almeno 8 anni eccetera è aperta ai meritevoli ai capaci e meritevoli anche perché fino a quel momento ragazzi quello che oggi poi sembra un diritto normale di confluire fino ad allora non era stato così i ragazzi poveri non potevano accedere o vi accedevano soltanto per una prima alfabetizzazione non potevano accedere l'istruzione quindi tanti soggetti tante persone capaci che sarebbero state veramente capaci forse avrebbero potuto portare un contributo alla nostra società non hanno avuto questa opportunità e quindi pensavo invece come siamo fortunati noi voi ancora di più anche la mia generazione io ritengo sia stata fortunata perché ha avuto questa opportunità è uno dei principi che sta nella Costituzione e proprio questo è la dignità di cui appunto prima parlava la dirigente di Giampaolo si concretizza anche in questo cioè fondamentalmente in questo cioè nel possedere cioè deve essere tutti sullo stesso livello nel senso cioè deve avere tutti le stesse opportunità perché l'istruzione e la formazione sono fondamentali poi ognuno di noi può fare tutto ma deve essere comunque deve ricevere un'istruzione ora io avrei tantissime altre cose da dire ma mi taccio qui e la mi ringrazio lascio la parola forse la lezione sulla vita se mettete insieme tutte queste teste componente un po' sai no? ne ho parlato io ne ho parlato le due professoresse che sono i miei fianchi ne ha parlato il filmato quindi praticamente perché la lezione si mette in i jazz è già stata compiuta e dice allora lei che aggiunge non lo so vedrò di aggiungere qualche altra cosa forse qualche esempio poi farò alla figlia non si sente lo tengo in mano no vabbè meglio dunque sentivo prima sono stati citati i miei autori ci siamo? sentite? allora è stato prima sentivo parlare della vita concitazioni in genere e facciamo scusate l'ultima prova e poi decido e sono ricordato ecco è stato fatto un taglio anche il collegamento della unità con la libertà con le diversità perché noi uomini siamo abbiamo tutti la dignità adesso vedremo di che si tratta ma siamo tutti diversi in nulla l'altra quindi la prima cosa che dobbiamo risolvere è la dignità non lo sta perché è diversa tutti diversi e quindi allora la dignità nelle diversità siamo dignità di essere noi stessi ciascuno di noi se stesso nella diversità rispetto a un altro e cioè quando è possibile questo? quando si è libero? ecco che si compone la triade quella che mi piace incitare Gianni Ferrara un caro amico e collega un po' più grande di me più grande anche di me che diceva che libertà e guaglianza e dignità costituiscono la dignità laica l'uno e il trinito giusto questo è un punto da guardare perché tutti uguali tutti i libri tutti i diversi ed è in questa diversità che si allida il problema ma anche la costruzione della propria dignità che significa dignità insomma inutile che questo viene da vinius virtuoso proprio meritevole no di stima meritevole di rispetto di onore però più o meno queste sono le definizioni che troviamo sui vocabolari ma poi si è generalizzato con Kant con il filosofo abbiamo a un certo punto questa immersione questo riferimento diretto della dignità alla umanità cioè Kant diceva proprio che l'umanità stessa è un granità è l'uomo e poi dopo c'è il corollario che avete sentito ripetuto da me da altri no nel filmato eccetera che l'uomo non può essere trattato come mezzo questo è il corollario ma come fine e questo lo rivediamo lo sappiamo tutti quindi lo rivediamo sempre ma vediamo un momento nella Costituzione italiana che cosa succede prima l'ordinamento per la umanità cioè della Costituzione è riferita anche alla dignità alla dignità per quel tanto che la dignità e la persona poi si identificano nel senso che ciascuna persona ha la sua dignità no quindi ho certi dignità l'ho detto prima dignità persona e libertà sono strettamente collegati e la Costituzione vuole la persona quindi la dignità perché la dignità non è altro della persona è una qualità essenziale della persona al centro dell'ordinamento al centro dell'ordinamento non c'è più lo stato questo è importante perché io vedo anche giornalmente alla morte quando capitano diverse questioni di culturalità in cui ormai noi siamo tutti da conto poi si tratta poi di vedere delle applicazioni come ragionare e applicare questo concetto ma quello che è certo è che al centro non c'è più lo stato questa è la visione della Costituzione italiana lo stato non è il centro al centro della Costituzione dell'ordinamento giuridico non c'è la persona e quindi la sua dignità che hanno detto per l'identificazione per la persona umana al centro quindi l'ordinamento giuridico allora che sente? il riconoscimento tra l'altro è un riconoscimento tale per cui la persona non è costruita per così dire dalle norme dell'ordinamento è presente la persona è fuori prima dell'ordinamento delle norme che pure si diceva che in genere la cosa si riferiva ai diritti soggettivi che i diritti soggettivi erano radicati sul diritto oggettivo cioè le facultate sagenti il diritto soggettivo diciamo però stranamente possiamo tradurlo il diritto soggettivo faculta sagenti possibilità la facoltà di agire era comunque il presupposto della faculta sagenti era la norma agenti non c'è diritto soggettivo non c'è facoltà di agire se non c'è una norma a volte che te lo ruffi dice questa era la visione proprio di lo Stato era al centro lo Stato e il suo ordinamento erano al centro del sistema del sistema di religione oggi cambia non è più così perché che significa essere al centro la persona l'attività e tutte queste belle cose che abbiamo usato significa che il riconoscimento è anteriore alla creazione da parte dello Stato cioè la persona è prima dell'ordine e questo risulta il bello poi è che uno potrebbe dire vabbè per un circolo perché poi dopo tutto questo però è riconosciuto dal diritto oggettivo della nostra Costituzione d'accordo però intanto il diritto oggettivo della nostra Costituzione prevede no? in un certo senso è giusta l'ambienzione no? ma sempre poi c'è il diritto oggettivo c'è la norma a genti che permette la facoltà a saggetti questo è anche vero ma intanto c'è il riconoscimento che la facoltà a saggetti è anteriore perfino è il riconoscimento di qualcosa che sta prima che sta avanti al diritto all'interno voi capite che è una rivoluzione radicale spessa rispetto all'ordineamento pre-costituzionale e allora il diritto poi che può fare ma è chiaro che potrà adottare quella riconosciuta non può che superare vedete l'articolo qual è l'articolo dove proprio è detto espressamente dunque no è l'articolo la Repubblica riconosce e garantisce i diritti violati vedete non solo li riconosce come anteriori che è ripatito anche l'articolo 3 poi comunque già l'articolo 2 la Repubblica riconosce ma solo li riconosce perché sono anteriori li riconosce perché ci sono non è che le altre altre che dì la Repubblica e lì allora ma anche le altre e ha riconosciuto perché sono dei dati anteriori però poi lì che garantisce però questi dati anteriori riconosciuti devono essere garantiti e questo è il compito invece della Repubblica cioè dello Stato i diritti violabili dell'uomo quali sono lui lui li esige tanto è vero che molti di voi lo sanno e soprattutto Napoletti e le incostituzionalisti c'è stata una tesi estrema quella che è una tesi istrittiva e una tesi estrema io sto in mezzo cioè non ero né per la tesi estrema né per la tesi troppo cioè c'era qualcuno che sosteneva ma i diritti violabili questi qui dell'articolo che è 2 sono quelli poi dopo che dall'articolo 13 e poi la Costituzione riconosce libertà personale domiciliare e qui adattando sono quelli che sono quelli no diceva una tesi opposta e poi sostenuto il giudice costituzionale attuale cioè fa bene no adesso Barbera era opposta lo facendo solo il professore oltre il nuovo politico ma Barbera sosteneva invece che i diritti più alla fine dell'uomo fossero indipendenti dall'elencazione della stessa Costituzione cioè ce ne potessero essere quanti se ne voleva e io ho perplesso di questa eccessiva libertà anche oggi dico purtroppo sapete perché perfino la porta della la porta dei diritti internazionale no europea quella dei diritti di Eva la cede non la porta di giustizia quella del trasporto non quella del costantino perché sono due purtroppo riconosce in maniera esagerata qualsiasi aspettativa qualsiasi aspirazione spesso è riconosciuta come l'uomo è caro caro perché noi abbiamo incontrato anche delle questioni a volte in cui non è proprio così anche perché esiste un dovere di solidarietà nella nostra Costituzione non è loro ci sono i diritti ma anche i doveri e soprattutto per il dovere di solidarietà che diventa per lo stesso un limite alla moltiplicazione che confessata in controlla delle situazioni soggettive bisogna stare attenti forse la Corte è esagera del riconoscimento facilmente dei diritti ma beh che poi le questioni sono in fondo limitate c'è una volta allo Stato perché non avrebbe rispettato quanto è il diritto una piccola multa insomma non è che poi le cose a differenza della torta in giustizia in europea ma invece ha un'opera un'altra importanza e anche vicolo per il produttivo di italiani allora dico al di là adesso di questo il cioè non voglio allontanarvi adesso sarebbe interessato ma troppo dal bene effettivamente i diritti più romani dell'uomo poi possono essere considerati invece come una categoria intermedia cioè non si può prescindere dai riconoscimenti testuati quelli di Costituzione no soltanto che possono essere interpretati questo sì in maniera ampio vi faccio un solo esempio perché divide ancora oggi la nostra Costituzionalizzazione l'articolo 13 della Costituzione dice la libertà personale è inviolabile poi uno va avanti a leggere dice non è messa forma di detenzione di ispezione di perquisizione eccetera se non nei casi lei qualsiasi altro restrizione se non è l'atto motivato per l'autorità giustiziaria e nei casi dei modi previsti dalla legge allora qual è il ragionamento che fa la tesi più restrittiva la libertà personale è inviolabile si intende la libertà del corpo cioè la libertà delle arresti delle intenzioni no cioè è riferita riguarda soltanto la libertà del corpo ed è l'interpretazione che per prima si afferde poi però viene qua uno massale di contro che stava con il giudice della corte a suo tempo che invece sosteneva che la libertà del personale del primo compo dell'articolo fosse anche la libertà morale non soltanto la libertà del corpo e questa tesi poi ha preso non dico il sopravvento perché ancora si discute se la libertà personale è ignorabile significa che è solo la libertà del corpo dagli arresti dalle limitazioni oppure no certo io sono della seconda prima che non si deve limitare alla libertà ma poi non è ammessa forma di detenzione casi necessitari riguarda sempre la libertà era stata scritta per quello ma intanto c'è questo primo compo ma stata sola la libertà personale la posso staccare dall'estero vedete ho fatto questo esempio per dire la mia è una desintermedia tra quella di Barbera aperta a qualsiasi riconoscimento sono troppo con le altre diciamo con quella che poi diventerà l'intervidenza della corretta mettere che qualsiasi richiesta qualsiasi bisogno si traduzcesse in un ecco questo è troppo adesso restrittiva io dicevo sono soltanto i diritti soggettivi previsti in costituzione e venete l'esempio del 13 nella loro più restrittiva interpretazione mi sembrava l'esagerazione del montale troppo prima troppo e e questa troppo e allora ecco la testa intermedia ho voluto fare esempio dell'articolo 12 perché arriva ma per esempio per me l'articolo 12 non sta a significare solo la libertà del corpo la peas corpus ma invece c'è anche la libertà morale con una serie poi di conseguenze ma torniamo alla dignità allora la dignità abbiamo chiesto la dignità è la persona diceva Kant è la la stessa persona lo ho segnato ma l'umanità stessa è una dignità e l'articolo 2 e 3 della Costituzione sono chiarissimi la Repubblica riconosce e garantisce i diritti violabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni dove si svolge la sua personalità se perché attenzione io non so solo il tempo per dirlo perché qui sono cominciati i primi 30 minuti quindi ho detto vieni la lezione è questa perché io mi rendo conto so che c'è un programma ma non voglio sforrare lei che è che posso chiedere e io ho bisogno sempre di un colore che mi gira solo i miei e poi ci abbiamo la cosa più importante poi è non so non voglio ma adesso facci il passaggio a quanto a quanto a quanto a 10 a 10 a 10 a 10 a 10 un altro quarto no voglio arrivare in media saresti no no poi dopo fermatemi eh ma c'ho due professori semigi io non mi permetto no no si permettono io lo dico io allora ecco io lei che è preside una volta si diceva preside preside per meno preside per meno preside su bello più bello allora come si dicono ecco le informazioni sociale dove si svolge la sua personalità perché poi la dignità ha due aspetti da un lato è un riconoscimento della qualità della persona dall'altro l'attività ha un'altra dimensione se io esercito bene questa mia qualità della persona realizzò la sua personalità non so se sono stato sicuro o se sono stato esplicativo per lo dire cioè proprio esercitando allora la dignità non è stato fatto fermo statico acquisito tutti abbiamo la dita perfino il peggiore delinquente condannato all'ergastolo diciamo bene non voglio entrare su un tema che è molto vivace che è presente e lì non mi posso non mi posso pronunciare ma persino lì si dice c'è una possiamo uccidere la speranza anche perché esiste comunque una delle funzioni forse la funzione principale è la funzione risocializzatrice della pena quindi non posso arrivare a applicare belle senza più speranza beh ma è un tema molto delicato ripeto che è oggi un tauro diciamo così per così dire nella Corte Costituzionale e quindi ovviamente essendo io un quindicesi non mi posso più gustare nemmeno nemmeno posso solo dire questo però che la speranza non si può regare perché la speranza è legata alla funzione riedubiativa della pena di cui all'articolo della Costituzione quella quella la pena può avere tante funzioni è stato detto non deve avere solo la funzione riedubiativa può avere la funzione proprio puntiva retributiva come dire infatti il padre adesso io ci penso io a retributire ci può essere la funzione per i 20 io ho tante le funzioni che abbiamo spero l'unica che non si può contestare quindi secondo me la primaria è la funzione di socializzare liceo l'aliena riedubiativa è l'unica di cui parla guardate i casi la Costituzione per i 50 l'articolo 27 dice le mille non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità anche questo e devono tendere alla riedicazione del condannato o risocializzazione se volete diciamo laicamente tradurre la rieducazione però dicono tendere tutte non ha qualcuna sia qualcuna no più in parte non lo dice quindi la funzione del condannato non sarà l'unica la Corte Costituzionale nel tempo ha detto che non è è stata esplicita non ha perso di quello che è del passato è su questa linea però è per no meno la principale è l'unica è l'unica del Costituzio allora torno a dire quindi pari unità addirittura Carlo Esposito uno dei miei maestri diceva che non solo si afferba il principio della pari unità sociale che è quello che dice l'articolo 3 non lo leggo se lo correggiamo tutti i cittadini hanno pari unità sociale e poi sono uguali vedete la legge ve lo sapete senza distinzione della dignità legata all'uguaglianza perché diversi tanto diversi che addirittura c'erano state delle categorizzazioni come dire della diversità nel sesso la razza la famosa razza di cui tanto si è risposto negli ultimi tempi la religione la lingua le condizioni personali e sociali e le motivi di diversità e sono le cose che la Costituzione contesta diciamo possono essere questi i motivi delle i motivi per far parere le diversità qui le diversità non contano secondo il disegno di questo poi siccome poi non è vero che non contano perché poi nei fatti contano e allora non era fatta male l'articolo dei noi c'è la seconda coppa l'articolo delle rive che dice ma lo sappiamo bene che ci sono stacoli di ordine economico sociale che limitano la libertà e l'eguaglianza tutti e due ma allora bisogna cercare di fuoco ecco il secondo coppa che è nello spirito del riconoscimento di una persona di un'attività e di un'attività che stabiliscono che impediscono quindi il pieno sviluppo della persona umana vedete che c'è il costituzione profetto quindi quella persona dignitosa quella dignità persona poi si deve sviluppare per creare la propria personalità della persona umana ci dobbiamo rimuovere quegli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana cioè il compimento di quell'opera costruttiva su noi stessi che rappresenta diciamo l'aspetto attivo della dignità no? perché poi la dignità c'erano tutti anche quelli che lo sfruttano per niente quindi sono due dimensioni della dignità c'è una dignità che è in là come dire io cerco di usare queste parole non so che sono imprecise che non so vale ma per far vita una dignità in là che c'è sempre peggior la speranza nel castolo stativo o anche perfino in quei casi non si può negare un minimo no? perché se no si nega che è una funzione della pena quella che è educativa e che risocializzi se è una pena di morire è curare è una pena di morire no? quindi la speranza deve essere perché nel disegno ecco perché c'è una dignità insoprimibile che è come dire una dote che ci hanno dato e nessuno ci può trovare quindi è il peggior delinquente però poi c'è la dignità nella sua dimensione costruttiva rivolta alla formazione una dignità che io posso più o meno bene o male sfruttare esercitare e questo è rispetto a quello che è rivolto alla costruzione della propria personalità quindi vale che questo forse questo è credo sufficiente anche le differenze che esistono di fatto allora l'articolo 3 per questo si incarica di cercare di superare questo benedetto articolo 3 quindi secondo forma cioè il fatto della rivoluzione il tentativo di rimuovere lo stato che impediscono la formazione della personalità e lo sviluppo come dice poi è ripetuto in altri per quanto riguarda particolare la vostra è ripetuto in costituzione mica una volta sola comunque ispira poi una serie di disposizioni ne voglio citare solo tre quelli che vi vengono prima in mente più facili il 32 che dice il 32 collegato al secondo Roma è quello che dice bisogna rimuovere gli ostacoli avere differenze di parte che impediscono la formazione della personalità è la cosa del 32 della costituzione spera la salute la Repubblica spera la salute come fondamentale il diritto del diritto vedete l'unità che si traduce in questo caso a me della salute come fondamentale diritto del diritto l'articolo 34 sono tutti la scuola questa cosa ci interessa per dire la salute incapace e meritevole anche se quindi di mezzo era un diritto di raggiungere i grandi più alti degli studi rende effettivo poi questo diritto più o meno attraverso il posto di studio e i vari ma anche vedete che c'è è un'applicazione l'istituzione è partita per almeno 8 anni c'è un minimo garantito e poi l'istituzione obbligatoria è questa e che la comunità no? e poi incapaci di diritto anche se primi di mezzo hanno diritto di raggiungere i gradi di alti vedete hanno lo stesso spirito della rimozione dell'iniziazione dei migliori e l'ultimo è il 30 ogni cittadino inabile al lavoro esprovvisto dei mezzi per gli ostali per cire ha diritto al mantenimento dell'assistenza sociale l'assistenza sociale è tutta la necessità del passamento e quindi specifico al secondo momento qui tutti hanno diritti che siano prevenuti e assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita e poi ci sono le mai esigenze di continuo malattia incredibile ecco almeno queste queste tre disposizioni sono diciamo come delle semplificazioni di quanto è stabilito nel secondo modo dell'articolo 3 allora il diritto all'esistenza di un metodo come si dice è un diritto è anche un prevenito no un prevenito non voglio non voglio limitare la politica ma è un diritto che ha la base che è presupposto la degli esempi sono pochi e ne ho molti pochi la cosa è un diritto a poter usufruire dei diritti se ci pensiamo da un altro punto di vista che è quello che poi mi sembra molto bene l'evidenza è Stefano la volontà no che il diritto però non mi pare che fu il maggiore autore su questo punto che si può citare ma anche se perfino Agnaro parlava di questo diritto come diciamo matrice degli altri diritti in qualche modo il diritto di poter usufruire e quindi naturalmente c'è da fare questa distinzione tra quelle dimensioni che ho mostrato prima con il diritto a ripetermi cioè il diritto come qualità innata che è una cosa che non è nessuno può perdere qualunque cosa faccia più mascalzone più delinquente però qui mi rimane il diritto che nasce con la persona che è la stessa cosa della persona ha la dignità perché non può non avere perché la persona per definizione è dignità e poi invece la dignità che va conquistata che permette la formazione e qui no qui ci sono le differenze una dignità chiamerei lo so che il tempo si dice ma quasi minimo una dignità quindi acquisita per i meriti che l'uomo riesce ad acquistare ma direi che come si combinano queste due facce qual è che ha la primazia diciamo tra queste due dimensioni le posso mettere in collegamento come si possono coniugare queste due facce e se non c'ho la seconda perché non ho fatto niente non l'ho sfruttata non ho migliorato la mia personalità non l'ho costruito nemmeno niente la mia personalità ma la prima è arrivata quindi non vi vuole essere preminenza è d'accordo eh che ho tornato l'ho sfruttata la prima la prima perché la prima quella statica è insostituibile è insuperabile eh questo è un punto che ci tengo peccato che non è il tempo che mi volevo fare e me li erano segnati anche grazie alla dottoressa caretta che è una mia assistente alla corte che mi ha segnalato che mi va di facciamolo uno solo quello dell'anno mi ha segnato ci fu una discussione controversia quello dell'anno mi avevo segnato l'avamo segnato l'anno aspetta aspetta anche l'anno va beh se no ve lo racconto io anche se non trovo ma si era scritto bene tu lo sai poi ci sono diversi esempi alcune questioni di personalità che ho personalmente seguito alla corte con la corte con la corte e mi ha sarebbe interessata ma non c'è allora lo segnato o no ecco 20 anni fa è un caso giudiziario dunque c'era un costume una prassi secondo lui il lancio del nano cos'era il lancio del nano durante uno spettacolo una festa il soggetto nano affetto della sindrome veniva sparato come un proietto pensato e catapultato sulla fuga così il stato francese all'indirittura dello spettacolo di una tale menomazione fisica di personalismo al fine di far divertire le persone presenti alla festa era una lesione della dignità ecco la maggiore della dignità della dignità intesa nel senso primo è statico quella che non si può togliere la risulta la questione la seguente era questa la questione giuridica quale dimensione della dignità può essere considerata prevalente se come sempre una persona affetto dall'analismo acconsentiva la pratica perché poi gli eravano i soldi 3 euro a guadagno allora è maggiore la dignità la tutela della dignità come qualità intrinseca oppure la libertà di autodeterminazione dell'indirittura e la possibilità di scegliere invece il guadagno non si può lo stanno prevalente in quel caso il consiglio di Stato dice che era prevalente la dignità e quindi il gioco è in alto quindi ho fatto questo esempio perché è molto suggestivo ma rende bene l'idea del contrasto tra le due inuzioni ho detto poco io sono un logorolo ho questo difetto ho bisogno di più tempo in genere per dire tutto quello che avrei da dire non lo so va bene questo è il momento dei ragazzi innanzitutto vediamo il suo che dobbiamo vediamo vediamo abbiamo la prima ecco lo chiamiamo sì 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 lo chiamiamo ancora così no 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 noi abbiamo questa terzo liceo è sempre uguale la situazione culturale poi ci sono ragazzi del quinto liceo classico europeo c'è una cosa nuova che le indirizzano è studiano il diritto questi ragazzi per cinque anni sì 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 e poi ci sono i ragazzi del liceo scientifico quinto anno del liceo scientifico cioè sì 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 però in questo paranzo siamo più dei partiti professore siamo più di vera io non non sono stato dove era perché mi fece una lettera una lata lezione a capopasso e poi lì c'era un liceo che era scena apparentemente scena in realtà c'era quello liceo classico era coordinato cioè fate queste perché è giusto così si racfruttano tutti le stesse le stesse le stesse le stesse ci sono anche le elementari le stesse ma c'è un particolare che per loro allora vediamo ragazzi chi comincia buongiorno io sono Alessia Damiani per questo liceo classico del terzo città vorrei portarle questa domanda per quanto riguarda la dignità sociale è l'uguaglianza senza distinzione di sesso spesso in campo lavorativo si affermano dei pregiudizi che discriminano la donna in quanto essa più delle volte è portata a dimettersi o per aver contratto matrimonio oppure dopo una gravidanza dunque nonostante tutte le giudizie che sanciscono il dirietto del licenziamento discriminatorio questa pratica che ormai è diffusa non lo dette in qualche modo l'articolo 2 nella Costituzione è una pratica non mi garantisce di riscrivere ma viene bene una questione di Costituzionalità così non c'è nemmeno bisogno che arrivi alla porta perché dovrebbe essere il giudizio non ci sono diranno non ci sono anche il giudizio per l'anno quindi la risposta è sì se è tutto quello è la tua grazie buongiorno io sono Anna Renzi del licenziamento per questo video allora te vorremmo chiedere qui ti fa o insieme ad altre 750 persone no no mi trova il terreno che sono stato io il generatore perché noi poi abbiamo i singoli giudiziano delle varie questioni che sono assegnate al Presidente però si occupano no è vero il Signorale Generale come è così no si occupano di vari dei visi a seconda delle scelte delle scelte a me quella è capitata una lunga storia quella del Signore Vinto il tuo età insieme ad altre 650 persone che hanno chiesto aiuto all'Associazione Coscioni si trova in una condizione di estrema sofferenza fisica o psicologica dal punto di vista etico la vita di questi uomini può essere considerata priva di dignità e di libertà in quanto essi non possono più considerare sì ma ti faccio sapere la mia vita la mia vita la mia vita la mia vita di questo l'uomo l'ha riconosciuto questo l'ha riconosciuto l'ha detto perché può essere dignitosissima vedo come la dignità gioca intesa in un senso soggettivo cioè io posso rendermi in quello stato posso dire che la mia vita è indegna di essere rissuta come dire beh ho perduto la dignità ma io posso invece dire pure perché esistono esempi di persone vogliono che non vogliono sottoporsi al suicidio e al persistivo no il nome è proprio della stessa dignità quindi crede se la dignità c'è no perché per me è dignitoso io sono credente per esempio no per me è dignitoso di me riferire alla fine magari ho fatto anche interrompere i mezzi di sostegno vitale artificiali perché io lo posso fare in base alla legge sul consenso informato che prevede la possibilità di far sospendere questi trattamenti che mi mantengono in vita so che morirò però quando morire vedete che la dignità se la intende in senso soggettivo può servire a proprio appunto cioè allora la cosa lei vuole sapere cosa abbiamo detto realmente abbiamo detto che solo in certi casi particolarissimi rispettarne quattro condizioni che abbiamo saputo di cui la principale è essere già attaccati diciamo a queste macchine questi mezzi che ci permettono di stare in vita artificiali non che ci permettono di stare a respirare per la respirazione per la nutrizione eccetera che noi in base alla legge la legge vigente possiamo far sospendere qual è la conseguenza della sospensione di questi mezzi di sospendamento vitale che la donna mi ha detto andiamo a morire e ne siamo cosciuti consapevoli alla legge e non per cui dire questo non significa ancora dire allora io posso aiutare posso essere aiutato sul cibo assistito no posso essere aiutato a morire siccome c'è una disposizione del codice penale che tra l'altro il codice rocco quindi era un periodo diverso in cui non c'era una persona al centro dell'ordineo medico ma c'era lo stato pensate anche a questo oggi è superatissimo e allora cosa si sosteneva che l'aiuto al suicidio era pulito allo stesso modo dell'esplicazione pensate al suicidio con le stesse mille sederissime sono cose più diverse è un conto più estico a uno a suicidarsi no altro molto che in casi punto limite disperate questo lo aiutò prima la punizione era un quadro noi siamo intervenuti abbiamo fatto una sentenza che ha rivenuto non è pulibile l'aiuto al suicidio soltanto in quei determinatissimi casi che abbiamo specificato cioè malattie invenzite piena coscienza di suicidio sottoposizione a trattamenti che io non voglio io malato non voglio più essere sottoposto a tutte queste condizioni in questi casi che sono rarissime pensateci bene non è un riconoscimento all'eutanasia nemmeno passiva all'aiuto perché invece è stata fraintesa questa comprensa no tanto più questa roba che noi avevamo dato al Parlamento la possibilità entro 11 mesi di intervenire la possibilità l'esbo inutilità che intervenire il Parlamento non è un riconoscimento pensate che lì in Parlamento tanto poco ci può si può sperare perché noi adesso dopo la sentenza abbiamo ribadito che il Parlamento sarebbe bene che intervenisse ma tanto poco il Parlamento interverrà no possiamo prevederlo fin da oggi non dovrei dirlo ma è così perché addirittura c'è una corrente che è attualmente minoritaria ma è molto consistente che addirittura vorrebbe ritornare e approvare la legge sul consenso informale cioè quella su cui noi ci siamo appoggiati per dire che in certi casi particolari estremi invece l'aiuto al suicidio non è guibili è un po' pensate non che non ci sia più reato attenzione noi il reato lo abbiamo anche di più scusate è reato se io per esempio una persona viene e mi vuole uccidere no io per legittima come si dice difesa reagisco e non mi vuole uccidere l'obicidio non mi pare le reato però c'è una causa esibente come si dice per l'inizio perché io in quella particolare circostanza non sono curibile perché ormai ho detto ah altrettanto grano e così qui è lo stesso non questo e in quei casi particolarissimi chi aiuta al suicidio come era il caso di come si chiamava c'è il papo no di le papo era male no capato 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 ho usato davvero tanto in questo periodo che me l'ho rimosso dunque capato capato secondo me secondo la morte costituzionale non può essere punito dalla stregua non perché non abbiamo messo un reato perché noi abbiamo previsto io nella sentenza della costituzionale che la corte costituzionale che il primo valore da salvare è proprio il diritto all'inizio non ha la morte però solo in quei casi eccezionalissimi la punizione di chi aiuta al cosiddetto suicidio assistito cioè che gli rende possibile in quei casi eccetera non è pulibile è una specie di come dire legittima difesa ma soltanto in quei casi limitatissimamente purtroppo questa sentenza non è stata letta meglio non si è saputo leggerla o non si è voluto che è peggio leggerla perché vedete è un paradosso lo stesso campato posso raccontarlo perché non c'è niente di male niente non spero nessun segreto a lungo parte nella nostra ordinanza in cui dicevamo adesso ci pensa anche il Parlamento in un anno in 12 mesi però se il Parlamento non ci pensa tra 12 mesi noi riassumiamo la questione e la diciamo con noi perché il fatto che in certi casi estremi ci sia una stessa punizione no per l'aiuto al suicidio no e per l'ingolisticazione al suicidio questa è una cosa che mi ha detto quindi se non interviene il Parlamento decideremo di dire noi siamo quindi adesso intervenuti e abbiamo deciso in un certo modo certo rimanendo fedeli a quello che avevamo già stabilito allora che c'era il punto costituzionale il vuoto in costituzione e adesso il Parlamento non ci ha provato in nessun modo e l'abbiamo fatto con ci sono delle criticità con me allo dedicato non la la paz destruens diciamo della vecchia ordinanza perché quella era una ordinanza che era già una settembre in quel caso non so niente perché se non c'è un vuoto un virus costituzionale poi si può intervenire in vario modo e qui il meglio che il Parlamento lo faccia lui ci aiuti però non ci hanno aiutato di niente e allora siamo tutti intervenuti chiaro che nella parte costruttiva noi abbiamo esercitato una sopprenza congiuntativa che non ci spede però pur di evitare la violazione di un diritto costituzionale quindi perpetuarsi in una situazione di costituzione non abbiamo potuto fare altro e all'unanimità abbiamo votato questa sentenza non lo so se è stato chiaro non abbiamo ammesso nessuna forma di eutanasia né attiva ma nemmeno passiva noi abbiamo soltanto riconosciuto che nel caso in quel caso incinzionale come è stato quello di la pato di l'alto e in quei casi rispettate quelle quattro condizioni strepissime perché è raro che si trovino tutte e quattro che si trovavano queste cose ma è vero che poi la testa in sera dove pure hanno verificato i medici che riconosciano effettivamente noi e solo in quei casi nemmeno abbiamo detto non è reato è reato lo stesso come l'uccisione se io uccido uno perché mi sono scontentato il testo è una causa di non punibilità e allora non è punibile quindi ti ha inuso al suicidio soltanto in quei esempi sono stati abbastanza grazie 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 dicevo è dicevo scientifico lettero una questione è la quinta b la quinta sì esatto il quinto anno la domanda che volevo parla è questa in qualche modo poter influenzare l'indipendenza il membro della corte costituzionale il fatto di essere eletto dal parlamento quando sono state il movimento delle cinque stelle che io nemmeno conoscivo quando questo pubblico mi telefonavo posso dire no? sapevo di sì sapevamo sì sapevamo c'è chiedo vedete il bel giornale c'erano queste cinque stelle che criticavano hanno avuto tanti voti la prima volta insomma perché appunto la gente pensava ciò sono duri duri e puri sono contro la politica come si era perpetuata per tanti anni per varie ragioni c'erano la gente ha pensato ciò abbiamo una novità vediamo forse forse e io però quando mi intervoglerò devo dire una persona senza considerare no non faccio la mia quindi però vedete una persona delle cinque perché era stata mia studentessa a me quando io fece la camp e mi dire dico ma c'è stata sua studentessa e mi dice le mie lezioni vede queste lezioni che io gli agli ero l'altro e mi piace e dico grazie dico ma stavo per dire le scienze politiche che ho giurisprudenza mai l'avessi detto perché se era scienza politica questi gli anni che erano passati l'avevo offesa l'avevo segnalata una sessantica 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 no ma non avevi a steli di specificare ma se mi scusate c'avevo un mandato ma dopo di che lì disse se io ero disponibile no io dico guarda io l'ho sfiorato tra l'altro che tutti sono eletti in ambiti questo lo dissi eh in ambiti più sensati no ma era una cosa se mai di nomina presidenziale che poi si realizzò tra l'altro il presidente della repubblica era consiglia quindi anche la consiglia presidente della repubblica ma scelse poi una persona una personaggia bellissimo che era vengono no non se l'avete sentito come giudice costruzionale ma non sono migliore di media questo cosa però infatti così che vi ho ancora il biglietto che si va bene adesso sarà per la prossima volta invece poi non c'è stata più beh c'è stata adesso la prossima volta perché io non me ne sono veramente preoccupato perché io ho sempre studiato d'altra parte non mi hanno mai chiesto di istruzione perché però io ho avuto i voti insomma quindi ma non era questo è stato questo stimolo però io andai e poi mi volle conoscere il presidente il factotum diciamo del Movimento 5 Stelle beh prima di decidere perché anche loro puntavano su diversi nomi non è che io è un'unità però a un certo punto si vede che decisero tanto che non otteniamo niente poi c'era uno stato da parte loro di un'ordinatura del partito dei moderati e così e poi dopo le cose si sono superate ma quando mi collotte però io vi ho risposto alla domanda quando mi conti invece con quelli nominati dal Parlamento sono diversi che quelli nominati dal Presidente dipende dal caso per caso faccio il mio perché dico se c'è uno perché quando mi convocò posso dire Di Maggio si chiama quello che comandava quello che comandava allora e comanda ancora adesso abbastanza quando mi volle conoscere perché aveva fatto una scelta e aveva detto io intanto gli ho detto in parte di voi non c'è riuscito prima cosa non c'è riuscito perché se non rimuovere non sanno non volevano Farbera che era sostenuto dal Stato Democratico e gli dicevano Farbera cioè schiacchere dico quindi Farbera non c'è riuscito e quindi io sono arrivato al punto no no quello che gli ho detto io dico caro tanto lei non c'è riuscito e poi anche se ci riesce a previsioni io non vi sarò mai carato perché io sono e devo dire loro ma non chiesto in tutti questi anni che sono 4 anni solo due volte volevano sapere se c'era se una questione che a loro interessava era l'ordine del o no e mi ricordo pure che mi chiesero ma immagino furono loro a dirmi immagino che il giudice designato alzorio della potoverse sia il tale e dove erano ma perché si sapeva perché i precedenti erano stati istruiti dallo stesso giudice ma pensate che non mi hanno mai chiesto niente ma d'altra parte io vi avrei risposto non mi chiedete non l'hanno fatto questo devo dire non l'hanno fatto e quindi si sono comportati correttissimi quindi la risposta è questa dipende da caso a caso io non ne ho subito condizionamenti poi qui c'è un segretario generale che può testicolare di questa mia all'inizio erano tutti non dico sospettosi ma tutti dicono quello è un giudice che è stato sollecitato da queste stelle 5 stelle più o meno 5 stelle dunque io non ho un rapporto con nessuno o un dono successivamente quindi come si può dire dipende ma ci sono poi anche possiamo vedere il contrario in genere i giudici i giudici costituzionali nominati dai giudici quelli possono al massimo fare tutt'al più l'interesse se non so il giudice è nominato al consiglio di Stato starà attento nelle questioni di costituzionalità a non mettersi contro no lui il proprio il consiglio di Stato dove è nato il disturbo e il giudice e lo stesso in Cassazione lui si riattaccia dalla Cassazione rispetterà darà molta importanza alle decisioni della Cassazione ma non è che si lascia nessuno si lascia un'indirizionale quindi parlare di calice sono quelli più suscettibili però guardi voi che strano no? nel caso di cui nessuno è un'indirizionale grazie 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 allora si è a te buon giorno noi siamo Dio Piotriveli del giudiceo classico grazie terzo allora la sentenza della prima la sentenza della posta che si posizionale sul mercato lo stativo la domanda comunque era più generale e alla sentenza anche a quello che diceva prima sul valore della pena e allora quello che è la speranza che in l'Italia è educativo ma non solo lei crede che si debba ancora cercare in Italia un giusto equilibrio tra valore comitivo e rieducativo della pena si proprio l'equilibrio che sta la cosiddetta saggezza semmai saremo saggi della vita però mi sono stati dire il punto il diritto che sono le due esigenze io non ne posso dire altro però gli ho detto una cosa io prima quasi involontariamente ho facendo la chiacchierata mia cosa gli ho detto che la speranza è l'ultima a morire perché altrimenti la pena tradisce la funzione risocializzativa di cui alla riconoscenza che è l'unica esplicita riconoscimento della funzione della pena in costituzione e quindi semmi continuo ma è tutto bene grazie buongiorno 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 frequento la puntata del liceo classico europeo mi domanda porti 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 l'entero che dice ci no non ho tostri di spiegare mi domanda questa qual è secondo me la questione legittimità costituzionale più interessante che ci porta più spunti di riflessione a volte a volte che ne ha capito qual è la questione sono tutte che ne so quindi la risposta è che dipende dalle nostre poste cioè che fosse interesse che le vostre a volte si è un po' un po' di non lo so lei perché ha fatto questo adesso non c'è la domanda lei perché lei mi fa questa perché direttamente lei di certe cose magari non ti importa niente e di altre invece se non interessa poi sono quelle di questa è una risposta che lei deve vedere prima spesso no prima se stessa perché mi fa una domanda di quali sono le questione cosa le interesse o o ritene che siano scritte cose noiose o di no no allora ce l'è qualcuna che la interessa c'è qui il problema inverso ovvero mi interessano diverse questioni mi interessa riflettere sulla unità ma come questa viene vista nell'epoca odierna beh questo è un aspetto e per questo motivo che ho fatto questa domanda guardi e allora le dico guardi che effettivamente l'accezione soggettiva della dignità umana sia cresciuta ma questa non è la risposta da giudice costituzionali ma da sociolo uno solo cioè è vero la dignità che pesa in senso soggettivo oggi si va più con l'uomo però attenzione perché nella scelta del costituente nel sistema costituzionale la dignità e soprattutto la dignità oggettiva mi trovo un solo esempio di quello che ho fatto prima in cui la dignità funziona secondo me principale quello che noi riteniamo nessuno forse nel caso cappato quello di cui parlavamo prima forse rispunta il concetto di dignità in senso soggettivo ma se lei andasse a vedere per curiosità l'ordinanza che facemmo 10 e qualche un anno fa 15 si fa di più ma sono passati più di 12 se lei fa vedere effettivamente c'è uno strumento in cui si affrontava il malato tra i capri e le requisiti si viene offensiva per la sua abilità seguitare a vivere in quel mondo adesso nella sentenza sono levato perché c'ho l'obiezione di quello che dice no ma ci stanno conoscendo che proprio per la ridendo non offesa la loro dignità nel rispettare la morte senza affrontare quindi oggi il concetto di dignità l'accezione soggettiva rispondita di più non è quella della l'unità cioè quello che mi pare come quello che ritengo io digno non è questo che la costituzione voleva quando usava la dignità al contrario la usava come limite per esempio la dignità economica quello che mi sente più chiaro no la te non guarda se tu puoi fare il perditore la dignità ecco no perché non vai contro la dignità e la dignità non ha qua essere quella soggettiva tu sapisci cosa è più piuttosto per te siamo buoni tutti no dignità è quella soggettiva pensi alle semplicità l'ano dice no no io voglio essere speffeggiato come nano che mi importa basta che mi date un po' di soldi no e il consiglio di stato francese disse no perché tu no così io ti da dignità e antepone il tuo interesse particolare e poi poter sbordare il nano ma per me è dignitoso eh no non è una responsabilità è un valore oggettivo e di imprendire di far di far giocare di fare i signori e di consentire il ragionamento poi non era lui era un po' pazzo che mi hanno lanciato a lui è stato proibito perché era violava la dignità del nano perché anche il nano ha la sua dignità oggettivo no così bello e io che credevo bene bello buongiorno allora adesso Giorgio Livier no dello scientifico quinto anno allora innanzitutto sono una rappresentante della consulta provinciale quindi ci tenevo comunque ringraziata della consulta provinciale degli studenti quindi ci tenevo a ringraziarla anche al nome di tutti per essere qui perché una persona di spessore come lei tra noi giovani è importante anzi lei sembra quasi aver superato queste prime fine di adulti e giungere ancora più direttamente a noi quindi la ringraziamo ma io questo lo faccio anche lo spirito della stessa corte costituzionale che da quando è stata presieduta nel sto io dal presidente prima Paolo Rossi e poi ci guardano a tanti sappiamo con lui tutti d'accordo grande merito a loro che sono stati i presidenti perché poi i presidenti sono quelli che dettano no eccetera questa apertura al mondo per ora il mondo è solo la scuola e i presidenti io spero che non sia ancora esterno cosa può pensare altro è stato perfetto giungo 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 5 giorni di giungo di paternità per appunto assistere figli non nannati esatto dovrebbero essere 7 nel 2020 esatto il pubblico dipende 3 giorni esatto il pubblico dipende di questo non è non accade quindi magari questa diversità di trattamento non può essere letta anche come disparità a un punto contrario alla costituzione però credo davvero la dottoressa lei se ne è occupata ecco dipende di me la dottoressa perché io credo che la cosa sia in fieri come si dice è vero il decedatore potersi come era questo io so che la dottoressa c'è questa differenza attualmente 3 giorni che poi sono un pochino diversi non sono specifiche come per la donna non sono specifici era proprio quello però è quello se ne vedete non cambiava non sarei saputo che è questo a tutti comunque è scoperto è incerto che c'è un modificio che probabilmente sarà di questo certo potrebbe essere una questione di costituzione ma in Italia potremmo anche noi però vede in questi casi non faremo credo perché se è una cosa dicendo veramente in colpo non operare ma ha già risposto in realtà il professor Modugno è molto tale grossolamente lei risponderà come io effettivamente esiste una disparità tra il concetto parentale nel settore privato e nel settore pubblico però potrebbe cambiare e dovrebbe cambiare essendo appunto una disparità non giustificabile ma ma c'è qualche cosa però esatto si attende una determinazione da parte del ministero della pubblica amministrazione perché nella finanziaria 2019 5 giorni per il settore privato e invece per il settore pubblico però si è in attesa visto che la previsione legislativa comunque prevede un trattamento buongiorno io sono Anna di Francesco e frequento l'ultimo anno dell'iceo classica tradizionale e allora l'articolo 10 della Costituzione recita che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge conforme alle norme e ai trattati internazionali e lo straniero al quale si è impedito nel proprio paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche stabilite dalla Costituzione italiana ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica alla luce di ciò non può essere considerato anticostituzionale il decreto di sicurezza bissema nato il 24 luglio dalla Camera e poi è approvato dal Senato il 5 agosto in cui si ostacola soprattutto il lavoro delle ONG che in realtà si fa un controllo cruciale nella salvaguardia il problema politico si è del senso è del senso che è del senso certo è il costituto che viene però attenzione perché qui andiamo a finire completamente nella scelta politica e vedere poi come in sostanza lei si riferisce al secondo diritto del Green no? si certo profili di Costituzione di Daccia non ci sono però la persona non è quella non è stata portata se lo fosse sarebbe come in parte perché stiamo probabilmente con una decisione però bisogna stare molto attenti perché la cosa lo so sarebbe si non potrebbe intervenire però c'era se ci fosse una domanda difficile imbarazzante soprattutto perché per oggi molto seone cioè non c'è stata se ci provi a immaginare chi è che ha potuto l'impergolenza dov'è essere in questa situazione lì questa interferisce anche con problemi più grandi allora chiede cosa è che bisogna avere come si fa la corte come può essere investita e lei lo sa c'è un processo nel quale prova a immaginare per esempio posso sfruttare dei porti e quindi potrebbe essere pure quando l'alunni li hanno accusati di essere entrati contro cosa potrebbe fare nel processo che è un'altra un'altra ricadissimo anche interessante va bene Salve, io sono Francesco Berardinelli, faccio un'altra scuola, faccio un'altra scuola, le volevo chiedere semplicemente un'opinione piuttosto personale, ma sono sicuro che sarà in grado di rispondere, ovvero lei considera un valore l'interpretazione della legge da parte di un giudice, quindi il giudice è chiamato a esprimersi sulla legge o pensa che il giudice debba essere esclusivamente un tecnico e quindi interpretare la legge in modo letterale? Sì, perché la popolazione è pessima, mi scusano di questo. No, no, voglio capire bene, perché l'interpretazione è un'attività necessaria, cioè l'interpretazione da parte di un giudice, di uno, di uno che è, chiunque ha detto un testo, è un fatto linguistico, ogni testo linguistico deve avere un significato. L'interpretazione non è nient'altro che ricavare da un testo, o ad infunzione, da un testo, nel suo significato. L'interpretazione, no? L'interpretazione, io ho scritto da un po' di questo, ho pensato da un po' di questo, e l'interpretazione per forza è libera. In contraria, certo, un limite nel testo, però quante cose si possono parlare, o poi, le mezze che il testo giuridico, parliamo quanto è libero, sta a fianco ad altri testi giuridici, una legge, anche ad altre leggi, e queste altre leggi, la prima e la seconda, stanno al piano, la terza, la guarda, cioè c'è tutta una trama linguistica. Lei pensi, con la lettera interpretativa, un regale dell'interpretazione è una cosiddetta interpretazione sistematica, che il significato di una disposizione deve poter, ai livelli delle sposte di qui, essere compatibile con il significato che quella stessa espressione abbia in un'altra legge. Lei pensi solo fatto questo esempio, per dire, come è infinita la possibilità, la libertà interpretativa del singolo interprete, lascia stare poi il giudice importante, perché? Perché il giudice dice l'ultima parola, che è la risoluzione di un caso concreto. Quindi la sua è un'interpretazione che pesa accidenti, perché il singolo ha, tra l'altro vuoi ricorrere la testa, ma se no, è chiaro che la giudice normalmente, e in vari garanti di appello, la parola della Cassazione è una parola di Dio. Quindi, come si racconta la sua domanda? C'è tutta una interpretativa. Guardi, le faccio l'esempio della Corte Costituzionale. Noi ci troviamo spesso di fronte a questioni di destituzionalità abbastanza in cui, però, è intervenuta la Cassazione. E diciamo, adesso siamo più o meno, si ripete, da parte nostra, però anche noi lo intervenghiamo spesso a questa. Si dice, un'interpretazione che renda la disposizione da pubblicare, nel caso particolare o concreto, che la renda il non incostituzionale, cioè una interpretazione, come dire, santifica, ce la può fare, anzi la deve fare, già il giudice del processo. Dice, una volta la Corte diceva, sulla base di ex Presidente della Corte, che impose, diciamo, questa sua, faccio l'intesa, che impose questa sua convinzione, una volta la Corte diceva, se il giudice non ha provato a fare questa interpretazione, come la chiameremo, conforme alla Costituzionale, questa interpretazione santifica, allora la Corte non entra nemmeno nel vento della Costituzione, lo boccia, dicendo, è inadmissibile la questione di costituzionalità, perché il giudice non ha sperimentato il tentativismo, poi la Corte si è corretta. E io mi ricordo che avevo criticato questa Corte così, quando non era un giudice, la Corte diceva, perché avevo detto, ma quant'è che è impossibile, come la Corte pretende, dare, perché dice la Corte interviene, solo se è impossibile, dare un'interpretazione conforme alla Costituzione. Ma niente è impossibile, veramente, di fronte poi a tutte queste leggi, che ho detto, tanta spagliate per cui si possono interpretare una, un'altra, un'altra, niente è impossibile. Quindi se il giudice viene, e allora siamo arrivati adesso a una specie di status quo, abbiamo detto, il giudice è tenuto a fare l'interpretazione, a tentare l'interpretazione, a meno che o la lettera della legge glielo impenisca, la lettera della legge dice proprio così, che posso fare, mi la posso scorgere, la bocca, no? Oppure perché si è formato un diritto vivente della Cassazione, cioè, in una serie di pronunce della Corte di Cassazione, un diritto, come si dice, consolidato, come la bocca la usiamo, no? Un diritto consolidato della Cassazione, che il giudice ritiene di non voler contrastare. Perché? Perché se lo contrasta, dice, alla fine dopo tanto la Cassazione, del redattore, quindi, di fronte a questi limiti, dice, a quello che funzionerà, noi, diciamo, di fronte a questi limiti, diciamo, che il giudice l'ha fatto, il significativo di interpretazione della Cassazione. Quindi, entriamo noi nel fronte della Cassazione. Guardi, mi faccio esempio della prima sentenza, che è pure la sentenza redattore a mano, della fine, prima che io fossi studiando studiare pochi mesi prima, poco tempo, una sentenza della fine del 2015. Che cosa erano queste? Qual era la questione? Perché c'era la disposizione di dirci, che tu ti puoi far cambiare il sesso, se non è sufficiente, un'operazione passi da uomo a donna, e allora poi te la devono anche registrare nell'ufficio comunale, no? La disposizione era questa, precisa, esentica, no? Cioè, ti dovevi sottoporre un'operazione di cambiamento di sesso perché poi quello che trascrive, no, il sesso alla cosa te lo potessi registrare. Il giudice disse, beh, qui non è inutile, no, perché tentavano di dire, ah, ma deve trascrivere lo stesso anche se il sesso non è cambiato, no? Chirurgicamente, ma è cambiato dentro, no? Ma lei la sangue, no? Ecco, posso nemmeno dire così. E allora, il giudice disse, io faccio l'interpretazione, non posso fare l'interpretazione di un sesso, perché me lo vieta alla lettera della legge, parla proprio di mutamenti, di etrooperazioni, eh? E quindi sollevò la questione alla mente, no? Alla corte, come ciò che non sollevamo? Si vede l'avvocato, no? Si stesse, e quindi sollevò la questione alla mente. La corte, cosa ha risposto? Ah, beh, la prima volta. Avrebbe, in un altro tempo, avrebbe detto, vabbè, ma non l'ha provata, l'interpretazione conforme, no? Non l'ha provata, ha sollevato la questione senza provare a fare l'interpretazione conforme. e quindi è ammissibile e basta. No, la corte, per la prima volta. Non disse l'ammissibile. Disse, il giudice è tentato di fare, non c'è riuscito, perché lui aveva di fronte la lettera della legge dell'ordine l'ordine l'ordine. La salute, perché lì si trattava di vedere, se era la salute fisica che veniva in questione o anche quella fisica. Però, il giudice interpretò il senso della salute fisica. Dice, non si faceva l'intervento per cambiare il sesso. No, era un fatto che era attinente alla sfera fisica. Invece la corte, ragionando direttamente, non gli bocciola. Il giudice ha detto che non l'ha accettato, non l'ha detto che non la può fare, perché c'è la lettera della legge che è chiaro che si è riuscito a fare. Però la salute è anche quella fisica. Allora, il giudice ha detto che invece si può fare l'intervento della salute. E quindi ammettere che il speciale è riuscito a vedere i cispoli anche quando ha il caso di intervento. il giudice, cioè ha bocciato, ha detto, ha imposto quella interpretazione che il giudice, che aveva sognato la questione, aveva ritenuto, come dire, inconsistente. Va bene? Dai come risponde adesso alla luce di questa lazione? Adesso non va. Allora, io ho fatto questa domanda perché sono combattuto, nel senso che il valore esiste, nel senso che l'uomo è in grado di interpretare la legge, secondo me è molto bene. Quanto sono il giudice? Nel 90% dei casi è un valore. Nel 90% dei casi per me è un valore. Però esiste una piccola percentuale di casi, o meglio, una piccola percentuale di rischio con cui diventa cambiare la natura della legge. Ho capito, cioè, lei dice giustamente che la interpretazione non può essere creazione sinora. Ecco, perché altrimenti... Altrimenti c'è una creazione della legge non è interpretazione di parte. È il barattima dell'interpreazione. Ma è necessario. Il nostro incontro non è una buona generale termine. Se questo può prendere, perché magari non è un'altra cosa. Abbiamo un'altra cosa. Allora, ragazzi, a conclusione di questo nuovo incontro, e a memoria, venite tutti qui e facciamo una foto. Va bene? Quindi è una foto. Sì, sì, non facciamo una foto. Sì, certo, veramente, è uguale alla foto. Venite, venite. Certo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.